Siete sui canali di LentiCar, automobili per tutti, Fiat Doblò 1.6 Multijet a turbodiesel, 105 cavalli, è un passo lungo quindi maxi, immatricolato a novembre 2010, percorso 118.000 km, unico proprietario, proviene dal noleggio a lungo termine per cui la percorrenza è certificata e i tagliandi sono stati effettuati. E' allestito officina con porta scala che poi andremo a vedere nei particolari. L'abitacolo ancora in buone condizioni, guardate la tappezzeria, non è rovinato, non è sgualcita, buono l'equipaggiamento, impianto radio con comandi al volante, naturalmente l'aria condizionata che non può mancare, start and stop e inoltre il veicolo ha 6 marce. Ed ecco qui il chilometraggio certificato e garantito 118.000 km. Ed ora mi taccio per assistere alla discesa del porta scala. Questa è veramente una trovata geniale che vi risolve un sacco di grani. Ed ecco il vano di carico allestito officina con i suoi scaffali, ripiani, serrande e cassetti, tenuto in condizioni perfette, simile al nuovo. Vedete anche il fondo in mandorlato, davvero un'ottima occasione. Per saperne di più sul telefono e chiamarci immediatamente o mandateci un whatsapp. Grazie per l'attenzione, ciao!